La storia dell'umanità è fatta da un perenne movimento. Tutti i vari popoli e le varie civiltà della storia, fin dalla preistoria in realtà, hanno viaggiato. Hanno viaggiato gli Egizi, hanno viaggiato i Finici, hanno viaggiato i Greci, hanno viaggiato i Romani. Hanno poi viaggiato i grandi mercanti e esploratori medievali come Marco Polo, hanno viaggiato i grandi navigatori del Cinquecento, da Colombo a Magellano, Vespucci. Quindi gli avventurieri che hanno dapprima conquistato le vie dell'oro nell'America centrale, nell'America meridionale, quindi l'Ouest o ancora l'Africa, l'Asia. Hanno viaggiato coloro che per primi hanno abbandonato il suolo della Terra per dirigere la loro attenzione allo spazio. Insomma, la nostra è tutta una grande storia in viaggio, una storia in viaggio che ha tanti protagonisti. Possono essere gruppi di persone, tante persone, oppure esploratori, eroi, avventurieri, criminali. Insomma, tutto questo, tutto questo è una storia in viaggio. Vi aspetto. Grazie a tutti.